Sanità e partecipate con un richiamo alla mancata costituzione del collegio dei revisori. La Corte dei Conti punta il dito su questi aspetti nell'esame dell'esercizio finanziario 2013 della Regione Calabria. Secondo le nuove disposizioni, i bilanci regionali, sia preventivi che consuntivi, sono soggetti al controllo delle sezioni regionali della Corte dei Conti per la verifica del rispetto del patto di stabilità interno, dei vincoli di indebitamento e per verificare l'assenza di ogni tipo di irregolarità. Per quanto riguarda l'ambito sanitario, la Corte ha rilevato che al 31 dicembre 2012 non tutte le aziende avevano trasmesso i bilanci preventivi e che pertanto non esiste adeguato coordinamento per la definizione del programma operativo 2013-2015. Altro capitolo quello che riguarda le partecipazioni della Regione nei diversi enti. La Corte dei Conti nel documento sottolinea la necessità di effettuare un ulteriore approfondito esame in ordine al mantenimento delle partecipazioni, valutando non solo l'attinenza in concreto dell'oggetto sociale con le finalità istituzionali, ma soprattutto l'efficacia, l'efficienza e l'economicità. In buona sostanza, secondo i giudici contabili, detenere partecipazioni in enti che magari, sin dalla data di Costituzione, non abbiano mai concretamente operato o che lo abbiano fatto in modo insignificante rispetto al costo della produzione e alle perdite di esercizio, non appare conforme al principio costituzionale di buon andamento economico. All'adonanza pubblica ha partecipato in rappresentanza della Regione l'assessore al bilancio Giacomo Mancini. Malgrado le condizioni economiche generali, ha detto l'assessore, e i tagli alle risorse attuati dal Governo, oltre agli interventi delle istituzioni nazionali e comunitarie che pongono paletti e il patto di stabilità sempre più complesso, in Calabria c'è un'amministrazione regionale che governa. Sui rilevi della Corte Mancini ha assicurato che tutta l'amministrazione è compatta nell'obiettivo di superarli. Corte che infine ha sottolineato la necessità per la Regione Calabria di dotarsi al più presto del collegio dei revisori, come previsto dalla legge.